Non è il solo criminale, tra lui e Netanyahu, francamente preferirei Putin. Beh, e non solo, ma ce ne sono di tanti di criminali, c'è Trump, c'è Biden, c'è Erdogan, no, ce ne sono tanti, e non continuo perché sennò gli indicheremo. Ce ne sono tanti di criminali. Putin è un grande criminale ed è un bugiardo, ma non è uno stupido. A differenza di altri criminali, lui non è stupido, purtroppo non lo è. È un uomo purtroppo molto furbo e fa quello che è nell'interesse del suo paese e suo.